Benvenuti tiporoni sono Marci e benvenuti in questo nuovo video delle run che vi sono piaciute un sacco in realtà non lo so perché non... cioè quando le ho caricate... cioè non ho ancora caricate mentre sto registrando cioè io praticamente sto registrando perché non sono ancora uscite le prime che ho registrato comunque ragazzi siamo tornati, siamo da soli questa volta perché il buon Marco sta registrando World of Tanks quindi ho detto beh tranquillo faccio da soli allora voglio battere i miei record quindi voglio arrivare almeno a un quattro partite nelle prime posizioni porco due non me l'aspettavo sta cosa cioè non... io purtroppo sta mappa non l'ho mai fatta quindi per me pesa un pochino allora dobbiamo stare solamente tranquilli ragazzi tranquillissimi e la madonna qua c'è addirittura un parkour ok qua siamo riusciti ad andare abbastanza veloci abbiamo superato anche quello vai mi chiama questo è solo è solo parkour dove devo andare ma devo andare di qua eh raga sono caduto guarda guarda che aran... è rosso è rosso è rosso è rosso qua cosa devo fare... oddio raga non capisco... no 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 oddio raga sono... madonna mi sono salva... raga non so come mi sono salvato addio sto male... oddio sto male... eh però se cado qua prendo danno ma che cacata è? ma scusami eh ma non ha senso sta cosa... ma non ha senso sta cosa raga ma che succede? raga aiuto... ripetetemi il caso vi prego che ero dalla parte giusta non mi dite che finiva qua che mamma mia vi sparo raga vi sparo aiuto 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 eh... accendilo vai... guarda lo sapevo lo sape... nooo sei una cacca raga ero secondo ero... raga ero secondo ero... non ci posso credere... non ci posso credere... non ci posso credere... ero secondo ero... ero secondissimo ero... e sono arrivato quinto... 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 NO NON VA BENE... NON VA... Non va bene, non va! Non va per niente bene! No! No! Ragazzi, mappa western, questa qui era quella che mi era piaciuta un po' di più, quindi voglio riprovarci, e mi sa che è arrivato anche tipo te, non prima non mi ricordo, no, prima non mi sembra, però raga, ci vogliamo provare? Ci vogliamo provare in questa mappa? Dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo! Qua non mi ricordo ci fosse qualcosa, ok, qua possono togliere queste cose qua, ragazzi, balzato complesso, non parlo, non parlo perché sono un porco due di sfigato, cioè non è possibile sta cosa, cioè questa è sfiga comunque, perché avevo passato bene con il coso, guarda, guarda, sono tutti passati, guardali sti schifosi, guardali, guardali tutti che passano, va, varali qui, guardali, guardali che passano tutti! Guarda che mi piazza la TNT che la balzo però io, spiace Bomber, ok, è passato anche questo, dai raga, siamo secondi in teoria, in teoria siamo secondi, no, secondi no, perché qua hanno già piazzato l'acqua, e quindi non possono ripiazzarla, in teoria, mannaggia, mannaggia, guardalo lì, lì, sono terzo, sono terzo, in realtà non so, ok, qua c'è un parkour, ok, guarda che lo passiamo per bene, raga, stiamo recuperando terreno, eh! Stiamo recuperando terreno in teoria, stiamo recuperando terreno, eh, volevi balzare, guarda che lui voleva, eh, volevo uccidermi ma non ce l'ha fatta, ok, qua dobbiamo stare attenti all'acqua, quindi dobbiamo fare una cosa del genere, perfetto, bravo Marci, bravo Marci, stiamo andando bene, stiamo andando bene, ok, qua possono mettere le barriere, cazzo, non l'avessi detto, raga, non l'avessi detto che potevano mettere le barriere, non l'avessi detto, ok, qua abbiamo balzato abbastanza bene, qua posso mettere le barriere, è giallo lì, qui è giallo, qui è verde, lo sapevo che la piazzava, lo sapevo, lo sapevo, vai piazzala, bravissimo Bomber, bravo, non aspettare, eh, non aspettare, ok, qua abbiamo fatto una cosa buona, perfetto, qua ci sono i tronchi, però qua, mannaggia raga, ci porta troppo indietro secondo me, sta cosa è da, no, non eravamo tanto indietro in realtà, ok, 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 vai, quanto siamo di distanza? Eh, ha già finito uno, mi sa, ha già finito uno, no, cos'è successo? Cos'è successo, raga, avete visto? What the fuck? Per cosa sarei morto? No, ma vabbè, vabbè, raga, no, raga, ma cos'è? Cos'è che becchi? No, raga, non ci credo, non ci credo proprio, mai nella vita ci credo, non ci credo di essere morto due volte nell'acqua, quanto sono arrivato? Quarto, 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 ma vi pare? Siamo nella tercera partita, dovrebbe uscire Enchanted Lagoon, quella che l'altra volta ho vinto, in teoria, purtroppo io facevo l'esempio con Gravity, ma non è come Gravity, raga, questo non è che ti impari le mappe a memoria, sei forte, perché qui va un po' cool in realtà, più che in realtà, però vabbè, ok, qua dobbiamo stare attenti, bisogna partire subito fortissimi, Sì, sì, l'ho balzato, l'ho balzato anche C'è una sfiga che è pazzesca però, eh, c'è una sfiga che è allucinantemente pazzesca Qua sono esplose le TNT, fortunatamente non mi è successo niente, qua neppure, va bene raga, va bene raga, va bene raga Che culo anche qua, voglio andare sui verdi, solo sui verdi, ok, madonna raga sto andando bene, sto andando molto bene, siamo allo stage 3, siamo allo stage 3, va bene, dovremmo essere terzi, dovremmo essere terzi, non dobbiamo sbagliare niente, qua dobbiamo stare attenti che si esce, c'è l'acqua, va bene, qua dovrebbe esserci il nostro fantastico ponte, lì cosa delle Sea Lantern Ok, cerchiamo di ricordarci com'è, si gira, circa si gira, ok, perché magari lo tolgono, io pure che lo tolgano, però non lo tolgono, bravi, bravi ragazzi, bravi ragazzi nei brutti quartieri E' quasi finita praticamente la mappa, adesso non vorrei dire, qua teoricamente io mi posso permettere di far così e supero il tizio lì, guarda che bravo che è stato Marci, Marci sei un grande, sei, sei un grande, ha già finito uno? Davvero? Ok, terzo, 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 1,19,691, 1,19,791, il quarto, buono dai, è stata una partita, una bella partita questa, anche se avrei sperato di meglio, però va bene così Quarta partita, di nuovo Enchanted Lagoon, ok, devo migliorare il mio 1,19,691 mi vuoi dire, mi vuoi dire che devo fare il mio 1,19,691? Io ci posso anche provare, però non lo so se ce la posso fare in realtà, raga non è così, raga si parte, si parte raga, ah raga si parte, ma se io passo di qui c'è qualcosa, scusami Non c'è niente, vabbè partiamo, partiamo, partiamo carichissimi Eh ci ho provato raga, questi l'hanno tolto subito, abbiamo già un bello svantaggio raga, abbiamo già un bel svantaggio perché abbiamo perso pure il nostro fantastico boost Eh, che sbatta, che sbatta, perché qua abbiamo fatto una bella cosa, qua stanno arrivando, credo Ok, perché mi ha portato indietro? Cioè avevo fatto la cosa della vita e mi porto indietro davvero? Sei proprio una cacchina sei, sei una cacchina sei Vabbè, il nostro record comunque è 1,19 ma non ce la faremo mai a batterlo perché, vabbè, siamo morti troppe volte Però possiamo provare anche ad arrivare almeno terzi Il mio obiettivo è arrivare terzo almeno, almeno terzo eh, dico almeno, se riusciamo ad arrivare più avanti del terzo posto mica male Però la vedo dura, la vedo davvero dura, la vedo veramente buia, anzi più che dura buia la vedo Abbiamo 20 secondi, eh sì, ciao raga, ciao proprio, perché qua dovrebbe esserci già la fine praticamente Sage 6, qua mi posso lanciare così e recuperare un po', ok, sto recuperando su questo qua raga Sto recuperando su questo qua, eh, però non recupero mica, questo dovrebbe essere il terzo E invece raga E invece secondo raga, secondo Uno diciotto, zero trentanove, battiamo anche il nostro record personale GG, GG, andiamo con la quinta, che magari esce di nuovo Inchanted Legoon e cerchiamo di sdrabattere il nostro record, cavolo Teoricamente l'ultima di oggi, io rivuto, no, non facciamo tipo, facciamo Ice che non l'ho mai fatto, dai Ice Voglio votare Ice, te ne hai voti la mia mappa, Ice, tre, no, però Inchanted Legoon di nuovo quattro Ah dai, cerchiamo di ribattere il nostro record su Inchanted Legoon Uno diciotto raga, ce la possiamo fare perché non dobbiamo cadere all'inizio Qual è la cosa più importante? Io vi sfido ragazzi, mandatemi di screen se fate meno di uno diciotto Ovviamente magari io faccio meno di uno diciotto Io voglio che per cosa c'è qua sopra Ah, non spawner qua sopra, pensate Ehm, vai 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 Marci, vai Marci Vai Marci Mamma mia, ok Ok, teniamoci il boost raga, teniamoci il boost Ottimo, ottimo raga, ottimo Questo boost qua ce lo teniamo pure Ok Qua ci possiamo mettere questo qua raga, lo strifleft Strifleft Non me l'ha fatto usare? What the fuck? Non me l'ha fatto usare lo strifleft Che dovevo usare qua in realtà, ha fatto un po' la caccata Potremmo battere l'uno diciotto raga, eh Potremmo battere l'uno diciotto Potremmo battere l'uno diciotto Ehm, ok Piano piano un botto stanno morendo Piano piano un botto sta morendo Non ne stiamo sbagliando una raga Non ne stiamo sbagliando una Con calma Perché probabilmente qua tolgono le cose Non l'hanno tolto Ottimo Questo è ottimo in realtà Il fatto che non l'abbiano tolto è ottimo Vai Vai Dobbiamo usarlo qua al boost raga Dobbiamo usarlo qua al boost Dobbiamo usarlo qua al boost Qua, sbam Perché non me l'ha usato? Che palle raga Cioè Sì lo battiamo l'uno diciotto raga Però guardate Ci hanno superato tutti Perché non hanno funzionato i boost Non è giusta sta cosa Eh vabbè Uno quindici Quarto Che merda Dai ve ne carico un'altra bonus va Raga the last one Esce ancora in Chained the Lagoon Basta Solo questa esce Cioè davvero Basta Mo' voto western Sperando che esca western Ho vinto in centi dragon Va bene Vi batterò anche l'uno e quindici Vi batterò anche l'uno e quindici Ci proverò Ci provo almeno Ci provo Dai 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 Ci siamo raga È già pronto per schiacciare quello lì È già pronto per schiacciare Madonna l'ho passato Madonna Cioè io c'ho una sfiga ragazzi Comunque È pazzesca È pazzesca Perché avevo fatto Avevo fatto il coso della vita E mi vai a morire così Marci Ma davvero Cioè davvero Marci Stai scherzando Spero Ok Va bene Qua abbiamo fatto bene Ad aspettare Qua abbiamo guadagnato un bel po' di tempo Qua abbiamo guadagnato un bel po' di tempo Guarda raga Piano piano Volevo usarlo Dai Sì raga l'abbiamo balzato Abbiamo perso un sacco di tempo Ma Ci ha messo il muro davvero Raga Ci ha messo il muro davvero Non ci posso credere Questo fa saltare le tnt Guarda raga Sapevo 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 Questa in Chanted Lego Non andrà bene Qua ci tolgono il coso Palese Guarda Io però me lo ricordo Sti cazzi Guarda che me lo so ricordato Già passati Gli 1 e 15 Praticamente Già passati Gli 1 e 15 Già passati Gli 1 e 15 Siamo salvati Tnt E porco 2 però Porco 2 Basta Tutte a me Che cavolo Non è possibile Però Mamma mia Qua mi metton pure l'acqua Guarda L'acqua Palese Non me l'ha messa Strano Meno male Che cavolo Qua mi tolgono qualcosa Eh Vabbè Siamo arrivati qua Con 1 e 36 Ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Spero che queste race Queste rami In realtà vi piacciono Da Marcio è tutto Lasciate un like Un commento Bella La Un commento Grazie a tutti.